C'è qualcosa che vediamo in campo di Castrovilli che nasce ispirato ed è migliorato dall'aver fatto danza, dall'avere la passione per quel tipo di movimento? Tanti mi dicono che come corro sono elegante, secondo me nasce tutto dalla danza. Stavo a calcio per strada, stavo a fare danza classica, poi ho deciso di dedicarmi al calcio. Qual è il tuo giudizio sul balletto del trio brasiliano? Perché avevamo visto Igor Dodò, Cabral. Quello che si muove meglio è Dodò, gli altri due fanno un po' fatica, però c'è da migliorare, però mi piace. Quindi voto ai tre? Dai diamo dei voti, da uno a dieci, Dodò? Dodò otto. Alto. Gli altri due? Sì e mezzo. Quanto? Sì e mezzo. Sì ma sei e mezzo tipo diviso due, tre a uno, tre e mezzo all'altro, sei e mezzo. No, no, sei e mezzo e sei e mezzo, dai. Ti stas.